Altra cosa bellissima, regà, finalmente, finalmente, questa è la cartolina che mi è arrivata insieme alla cosa che vi sto per far vedere, finalmente è arrivata la novel di Classroom of the Elite Limited Edition. Grazie a Dio anche perché è passato un po' di tempo, sarò sincero, sarò sincero, mi aspettavo un box più grande, cioè guardate qua, è più piccola della mia mano, è proprio minuscola, quindi sì, mi aspettavo una roba un po' più grande, vi faccio uno spacchettamento epico. No, ma vi giuro, cioè io qua la devo rompere. Ogni volta le alette si mettono in mezzo e non ti permettono di effettuare un'apertura pulita senza dover incrinare qualcosa. Vaffanculo, sti cazzi, apriti e vaffanculo. Allora, al suo interno, come potete vedere, troviamo la novel più delle altre cose. Da dove l'hai comprato? Dal sito di Docuscio. L'ho comprato sul sito di Docuscio, mi pare che solamente sul sito di Docuscio si potevano preordinare, però vabbè, adesso non è più preordinabile, la potete trovare su Amazon, dove vi pare, sul sito di Page Master Store, che dovrebbe... Comunque, teoricamente, insomma, la novel la trovate ancora, ma non nella versione Limited Edition. E in realtà, giusto per curiosità, sapete cosa vorrei fare? Cerchiamo su eBay. Cerchiamo su eBay Classroom of the Elite Limited Edition, vediamo quanto sta, se qualcuno la rivende. Beh, 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 vi devo dire 50 euro, roba che costa 13 euro, vi devo dire, ti devo dire un prezzo veramente da amico, per così dire, per questo bellissimo box di Classroom of the Elite. Anche 100 euro massima, pure 200, che puttanate, che puttanate, vabbè. Comunque sì, volendo su Page Master Store lo trovate, codice scontore anime e niente, ce l'avete. Però non questo box. Quindi, aprendo la scatola, tornando un attimo indietro, che bello che non lagga, che bello che quando faccio le transizioni non lagga più. Allora, abbiamo un po' di cartoline, in primis questo. Comunque no, devo dire, secondo me, per quello che danno, è abbastanza caruccia il pacchettino completo. Questa è una sorta di card semi-trasparente, non saprei bene come definirla, però, beh, questa qui. Poi abbiamo due altre card, però queste qua sono tipo in carta, di cartone, normali. Questa qui con Orikita e il best protagonista mai creato a Yanokoji. Quest'altra con Cushida, la più grande, vabbè, però comunque in una posa carina. Forse questa qua era ancora la Cushida quando era bella e coccolosa nella prima stagione, poi diventata una troia. E poi abbiamo, invece, un'altra cartolina dove sono raffigurati tutti e tre insieme Cushida, Yanokoji e Orikita. E la cosa bella, vi devo dire, ti devo dire, è che ti danno anche il volume della novel, il primo volume, con questa copertina Variant. Quindi, in realtà, la copertina non sarebbe questa qua di Cushida con il, come potete vedere, investito con l'accappatoio. Però sarebbe, perché è una sovracoperta, sarebbe questa qua. Quindi questa è la normale copertina, ovviamente, così, e questa è la sovracoperta. Che ti danno? Direi che ci sta, cioè, sinceramente, per 13 euro penso che D'Oshio abbia fatto un ottimo lavoro, considerando anche che l'hanno messa a Limited Edition e ad un numero di copie anche abbastanza cospicuo. Quindi non è che hanno fatto due copie in croce come Planet Manga, né hanno fatto troppe copie da rendere questa roba totalmente inutile. Quindi, no, secondo me, come dire, D'Oshio ha fatto un'ottima roba a sto giro, a differenza di altre case editrici, non hanno dato robe strane. E sì, poi, giusto per farvi vedere all'interno, è così. Molto piccolina, devo dire, però la leggerò. La leggerò assolutamente, voglio capire effettivamente le differenze tra l'anime e la novel, che tutti decantano come essere la cura per il cancro, probabilmente. E niente, quindi questo è quanto. La leggeremo nei prossimi giorni, nei prossimi giorni. Anche perché io, sinceramente, fosse presente online, in italiano, l'avrei già letta. Probabilmente, non so se è presente in italiano, però non mi pare. Se fosse stata presente l'avrei già letta. Però, da quello che so, mi sa che è solamente disponibile in inglese, la novel, online, se non la compri. Perché non è che sono proprio un grandissimo amante di leggere le cose cartacee, tranne che in alcuni casi. Quindi avrei preferito una scan, diciamo, ma vabbè. Ah, c'è? Ci sta la traduzione? Ah, ok, di solito no. È grandezza giappo. Ti dirò, ci sta secondo me. Ci sta secondo me che sia grandezza giappo. Cioè, è più piccola, appunto, di una roba normale. Perché se dobbiamo fare un paragone con ReZero, ad esempio, con la novel di ReZero, potete vedere che la differenza è abbastanza netta. Cioè, come potete notare, c'è una bella differenza. Però, secondo me, va bene così. Cioè, va benissimo mantenere la stessa grandezza delle novel giapponesi. Da... Probabilmente costano pure di meno queste cose. Ok che a sto giro era un pack contenente altre robe, e quindi l'hanno fatto pagare 13 euro, ma, teoricamente, se mantengono una tiratura più piccola, cioè una grandezza più piccola, dovrebbe costare di meno, forse. Costano 13 euro? Davvero? Cioè, anche senza il box costa 13 euro? Possibile? Ah. Beh. Beh, beh. Che dire? Che dire, signori? Allora mi sa che è un pochino scam come cosa. Nel senso, io credevo che il fatto di volerlo fare più piccolino, come in Giappone, oltre per, appunto, essere più fedeli all'originale, che a me va benissimo, è ottimo, secondo me, che vogliono essere più fedeli alla grandezza giapponese, era anche per farlo pagare un po' di me. Cioè, credevo che questa cosa li avrebbe aiutati a contenere i costi, anche perché credo che, ovviamente, la versione più grande sarebbe costata di più. Quindi adesso mi viene da pensare, ma la versione più grande, allora l'avrebbero dovuta far pagare, tipo, 25 euro? Cioè, in che senso? 25 euro la pagare? Almeno 20 euro, perché se questa piccolina costa 13, mi sembra un po' eccessivo, eh. Mi sembra un po' eccessivo, però, ovviamente, non sono addentro a queste cose, quindi non posso sapere i motivi di questa scelta qua, se sono stati obbligati o se i costi alla fine sono questi. Non lo so, però particolare, particolare. 13 euro sono onesti per una novel? Eh, però, scusami, la novel di Re Zero costa 13. Cioè, questa è la cosa... Scusa, la novel di J-Pop costa 13 ed è più grande. La novel di Docuscio costa 13 ed è più piccolina. Cioè, teoricamente, non dovrebbe esserci un... Non ci dovrebbero essere minori costi per Docuscio, a rigor di logica dovrebbe essere così. Grandezza minore, meno carta impiegata, dovrebbe costare di meno. Però, non lo so, sarebbe interessante... Sarebbe interessante approfondire questa cosa.